Buonasera, buonasera, bentornati su TCS delle Cosa Smeralda. Il Magazine, quante volte abbiamo raccontato l'importanza dei servizi, in questo caso dei trasporti, per avere una visione di turismo perfetta. Anche i collegamenti marittimi, soprattutto i collegamenti marittimi interni, devono essere sempre perfetti. Nuovo bando per quanto riguarda i collegamenti marittimi con la Maddalena e Carloforte. La Regione ci riprova dopo le due gare andate deserte nel 2022. Vediamo. A.A. Cercasi, compagnia marittima disposta a percorrere il tratto Palau-La Maddalena-Calasetta-Carloforte. La Regione Sardegna ha nuovamente pubblicato il bando per affidare il servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori. È la terza volta che il bando viene pubblicato, ma in entrambi i casi nessuna compagnia ha risposto. Ora si spera di trovare un interlocutore possibile per un contratto della durata di sei anni e che sia disponibile il trasporto di persone e merci con tariffe agevolate per i residenti e con alcuni obblighi relativi alle persone con disabilità, a fronte però di un cospicuo esborso da parte della Regione. L'impresa non è affatto facile. Come è apparso palese appunto dallo scarso interesse suscitato dai due precedenti bandi, considerati evidentemente poco remunerativi dagli armatori. Sul piatto della bilancia le compensazioni pubbliche, ma anche lo scarso flusso di pubblico nei mesi invernali, non sufficientemente compensato a quanto pare dal via vai dei turisti nella stagione estiva in entrambe le isole, veri e propri piccoli paradisi per turisti, ma che evidentemente non riempiono in sufficienza le casse delle compagnie. Da qui lo scarso interesse per i bandi. Ora si leprica con qualche variante. Per il lotto 1 l'importo a base d'aste è pari a 30.287.348 euro per la durata massima stimata di 72 mesi e per un importo annuo di 5.047.891 euro. Per il lotto 2 Carloforte Calasette e Carloforte Portovesme l'importo complessivo è di 84.151.177 euro, 14.025.196 euro all'anno. Il valore stimato della concessione per il lotto 1 è di 67.154.774.36 e per il lotto 2 124.602.719 euro. Per partecipare alla gara europea le compagnie di trasporto avranno tempo sino al 2 novembre alle 13. Attualmente il servizio di urno sulle linee la Maddalena Palau e Carloforte Portovesme e Carloforte Calasetta è svolto dalla Delcomar SRL, mentre il servizio notturno è svolto dalla Ensamar SRL. I due contratti, nell'emore dello svolgimento delle procedure previste dalla nuova gara, sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2023. Neanche qualche giorno fa vi abbiamo raccontato l'arrivo in Sardegna del numero 1 della protezione civile nazionale che cercava un po' di fare il punto sugli incendi, beh incendio e caldo, cominciamo dalle temperature impicchiata di nuovo a 38 gradi percepiti, però a proposito appunto degli incendi è stato trovato l'innesco del rogo che ha devastato le campagne di Sorgono, distruggendo oltre 150 ettari di bosco di sughera e macchia mediterranea, carbonizzando tra l'altro il patrimonio di alberi secolari. E dietro c'è la mano dell'uomo, e che uomo aggiungiamo noi, aggiungo io, come a Posada, Quartus Sant'Elen, Costa Re, insomma cerchiamo di fare il punto tra il caldo e gli incendi. Vediamo. Previsioni azzeccate, da ieri le temperature sono di nuovo in salita, AFA comprese, purtroppo aumenta anche in pericolo incendi, la protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta indicando per l'intera giornata di oggi un alto rischio di roghi, codice arancione in mezzo a Sardegna. Le zone interessate sono il Campidano, la Marmilla, al sud la Barbaggia di Ololai e del Mandrorisai al centro e la Galura al nord. A questo proposito c'è da registrare il grosso incendio di vampato ieri a Sorgono in località Monte Oe, rovo che ha distrutto oltre 150 ettari di bosco e sugarette, incendio che anche nella giornata di oggi, dalle prime ore dell'alba, ha visto squadra a terra supportate da un elicottero per spegnerlo definitivamente e bonificare i terreni coinvolti. Intanto il termometro dovrebbe continuare a serire anche nei prossimi giorni tanto che il Ministero della Salute ha classificato con il colore giallo livello 1 l'ondata di calore che colpirà Cagliari e l'Interland fino a domani, mercoledì 23 agosto. Si prevedono temperature tra i 24 e i 37 gradi con una massima percepita di 38. Insomma, per i titoli di coda, su quest'estate 2023 ci sarà ancora da aspettare. Il magazine è anche leggerezza, un magazine deve essere anche leggerezza. Cagliari, da questo punto di vista, rientra in una classifica che può far sorridere che però un minimo c'è a zecca, ovvero Cagliari è una tra le città più trendy d'Italia. Trendy, un aggettivo in inglese, cosa vuol dire? Che fa tendenza, ma non solo. Pensiamo a Cagliari, solo qualche anno fa, che durante il periodo di ferragosto praticamente non c'era nessuno nei cagliaritani, pochi turisti che venivano qua e non riuscivano a trovare un bar per fare colazione, una pizzeria, un evento. Insomma, Cagliari più trendy, capitale del divertimento, non ancora. Trendy per ora. Vediamo il servizio. Tendenza Cagliari, città prima di tutto. Il capoluogo di regione non si smentisce, entra di diritto in un'altra classifica, ovvero quella di essere la terza città più trendy d'Italia del nostro bel paese. Già, proprio così, trendy, aggettivo che in inglese certifica e significa una qualità e una caratteristica, ovvero quella di essere alla moda, alla portata di tutti, aggiungiamo noi. O ancora, estendendo il significato potremmo appiccicare al capoluogo sardo quello di creare una tendenza, appunto, qualunque essa sia. Facciamo un passo indietro, però, neppure dieci anni fa Cagliari non rientrava nei piani del turista che sceglieva l'isola, la Sardegna, la nostra, come meta preferita per trascorrere le sue vacanze. Aggiungiamo, inoltre, che gli stessi cittadini del capoluogo, già da fine luglio, per non parlare di agosto, l'abbandonavano. Si trasferivano nelle seconde case, oppure partivano, e girare in città, nell'ottavo mese dell'anno, quello deputato alle ferie, diventava quasi un viaggio surreale, con buona pace, di quei pochi, pochissimi, turisti che magari a ferragosto cercavano un bar per fare colazione, oppure un ristorante, una pizzeria o ancora un evento a cui partecipare. Beh, ritornando a oggi, Cagliari si impone e piace. Piace ai turisti, seppellisce, quello stereotipo di città da primo giorno o ultimo, città riempitiva, insomma, o tampone per fare orario e poi trasferirsi all'aeroporto di Elmas. Chi sceglie oggi Cagliari lo fa per godersela appieno. Conosce e si stupisce che a pochi chilometri dalla città ci sia una spiaggia cittadina che con il suo litorale offre e propone mille iniziative. La spiaggia dei 100.000 o dei cagliaritani, fate voi, anche in questa estate ha dimostrato tutte le sue potenzialità, dalla possibilità di praticare sport, dalla corsa, la bici, i pattini, passando per il mare e il super windsurf, solo per citare l'acqua, e ancora, beach tennis, beach volley, diventano calamite di turisti che si sorprendono nel vedere che si può giocare gratis in spiaggia. Tendenza Cagliari, Cagliari Trendy, dietro in graduatoria, solo a Firenze e Parma, ma c'è di più. È anche l'unica città del centro-sud da essere presente nella top ten nazionale. Non male, eh? Anzi, benissimo. Secondo la classifica, arredata da Bravo Sconto, che ha realizzato uno studio sulle 25 città più grandi del bel paese per popolazione, il capoluogo Sardo fa il paio con il costo della vita basso, il migliore del ranking, 1.225 euro, contro la più costosa di tutti, Milano, 1.698 euro. Tendenza Cagliari, Cagliari Trendy, anche nella ristorazione, dove ottiene il secondo posto grazie ai più di 10 ristoranti per chilometro quadrato. Insomma, la metafosi di Cagliari ormai manifesta a tutto e a tutti e al di là delle classifiche, delle graduatorie, rimane la certezza di una città sempre più moderna e attrattiva che guarda al futuro, eppure competitiva. Cervo Sardo, il Cervo Sardo, l'ambiente, la cultura dell'ambiente in Sardegna, il Cervo Sardo è al centro di un patto molto importante tra la Sardegna e la Corsica, di un progetto Life, One Deer Two Island, finalizzato proprio la sua tutela. Vediamo. Sardegna e Corsica unite per la tutela del Cervo Sardo, sottospecie autoctona delle due isole che per la sua importanza richiede una protezione rigorosa. Recentemente, infatti, l'animale è stato al centro del progetto Life, One Deer Two Island per la sua salvaguardia, progetto che si è concluso con ottimi risultati. Se all'avvio nel 2019 la specie era presente in poche centinaia nella Sardegna meridionale e praticamente estinto in Corsica, attualmente il Cervo Sardo Corso è aumentato in maniera consistente in entrambe le isole, sono stimati infatti in 13.000 e 7.000 esemplari. Per il controllo della specie, nei giorni scorsi è stato organizzato a Corte dalla Regione Corsa un tavolo di lavoro sul programma di gestione del Cervo nelle due isole, al quale ha partecipato l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Marco Porcu e una delegazione regionale composta anche da Forestas. Il rapporto tra la Sardegna e la Corsica oggi si fa ancora più forte, la delegazione della Regione Sardegna è presente a Corte per discutere del progetto Life che riguarda la reintroduzione e l'implementazione della specie del Cervo Sardo nelle due regioni. Oggi ci troviamo a un punto di svolta perché i risultati sono arrivati, la specie è ben presente in entrambe le regioni e anzi ci troviamo a dover gestire dei numeri ormai fin troppo elevati. Si discuterà quindi nei prossimi giorni come il rapporto tra la presenza del Cervo e gli altri comparti economici, l'agricoltura e la presenza umana, quindi il rapporto con eventuali anche incidenti stradali dovrà essere gestito anche facendo ricorso a risorse dell'Unione Europea nell'ambito del nostro progetto. L'elevata vocazione zootecnica delle due isole impone un'osservazione periodica del Cervo, oltre ad attuare un programma di gestione a lungo termine per una migliore integrazione degli animali alle risorse ambientali disponibili, anche facendo ricorso a risorse europee nell'ambito dello stesso progetto Life. L'obiettivo è mitigare i conflitti tra la popolazione e i cervi, realizzando un monitoraggio che consenta di tenere sotto controllo lo stato sanitario della specie e l'implementazione di nuove soluzioni di gestione e di management in collaborazione col mondo della ricerca e con le scuole primarie, promuovendo l'educazione sul ruolo del cervo nell'ecosistema delle due isole. Lo suo problema lo stanno ravvisando in Corsica, dove però la gestione della specie è un po' differente, per cui dovremmo avvicinare i nostri paradigmi normativi affinché si possa gestire nell'ambito del suo progetto Life il controllo anche della specie. Intanto a Olbia il premio Eno Letterario Verbentino, vediamo. Il premio Eno Letterario Verbentino, sin dalla prima edizione lanciata con il riconoscimento all'amica Simonetta Nianorbi, ha nel frattempo tracciato solchi e filari, riuscendo a ritagliarsi un ruolo rilevante in ambito nazionale. Non a caso, a cinque anni di distanza dalla nascita, sono sempre più numerose le case editrici regionali e nazionali e gli autori che decidono di prendere parte al premio. Lo scorso anno la palma della miglior opera letteraria se l'è aggiudicata Felicia Kinsley con Non è un paese per single. Ancora una volta a Olbia per la settima edizione del premio Vermentino, dove romanzi e racconti sul mondo vitivinicolo saranno i protagonisti per suscitare ancora una volta quelle emozioni e quelle sensazioni che sono legate alla coltivazione delle terre, delle vigne e alla produzione del buon vino. Memorie spesso tramandate di padre in figlio che diventano poi quei preziosi elementi identitari di un territorio. Da sette anni ormai il Vermentino si fa apprezzare per il suo gusto limpido, associato a parole e frasi di autori, capaci di suscitare emozioni e visioni in chi racconta, ma soprattutto in chi legge. Il premio Eno Letterario Nazionale Vermentino 2023 in programma ad Olbia il prossimo 7 ottobre si propone così per stuzzicare i palati degli appassionati di questo vitigno e che amano bere un buon calice, magari accompagnato a pagine e parole. Il premio Eno Letterario Nazionale Vermentino 2023 avrà presenti a Olbia 31 opere e 25 case editrici. In questa nuova edizione, che abbiamo presentato con successo alla Fiera del Libro di Torino a maggio, ci sarà un ospite d'eccezione, Neri Marco Re, che dialogherà con i finalisti per annunciare poi il vincitore di questa nuova edizione. Quindi un premio fatto di sensazioni, di racconti e anche un po' di visioni di una terra così come la vorremmo ritrovare, perché questa è la cultura del fare, del vedere oltre e di immaginare e sentire la propria terra, il sacrificio della terra e le soddisfazioni che questa può dare. Nulla nasce dal caso. Un buon filare produce vino ottimo dove queste uve ne vengono coltivate con passione e competenza. Un buon libro non fa differenza. Eccoci qui con la passione per la terra, per la nostra identità, per il buon vino e per tutto ciò che può venire da una terra come la nostra, la Sardegna e in questo caso il Nord Sardegna che ci regala senza ombra di dubbio sensazioni sempre incredibili. La nuova edizione del premio che nasce su iniziativa della Camera di Commercio di Sassare realizzata in collaborazione con i comuni di Olbia, di Castelnuovo Magra e il consorzio dei produttori del Vermentino di Gallura può contare quest'anno su un ospite d'eccezione. L'attore Neri Marco Re a dialogare con i finalisti e annunciare il vincitore del premio 2023. Bene, termino qua. Vi do appunto a vedere le prossime edizioni con il nostro Mike Asin. Grazie.